Riuscito l'ammaraggio nel Golfo del Messico della navicella Crew Dragon di SpaceX, rientrata sulla Terra riportando a casa gli astronauti statunitensi Bob Behnken e Doug Harley. La missione era partita lo scorso 30 maggio per la Stazione Spaziale Internazionale e la navicella non dovrebbe aver riportato lesioni. I due astronauti incarnano l'equipaggio del primo veicolo spaziale costruito da un'azienda privata, la SpaceX di Elon Musk, ad essere riuscito nell'intento di agganciarsi alla Stazione Spaziale. La NASA ha concesso il lascia passare per la partenza dopo aver a lungo ponderato che le condizioni meteo nella zona di Splashdown, interessata dal passaggio della tempesta tropicale Isaias, fossero buone. La capsula è ammarata per la prima volta dopo 45 anni. L'ultima si verificò nel 1975 durante la missione Apollo-Soyuz, messa in atto dall'allora Unione Sovietica e dagli Stati Uniti.